Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Comano e sono qua per mostrarvi un appartamento di tre locali duplex in una casa costruita nel 2010 con un totale di quattro appartamenti. Allora, si accede direttamente nella zona giorno e poi sulla destra si sviluppa invece la cucina, cucina semiseparata abitabile. La cucina è composta da colonna frigo e congelatore a tre cassetti. Accanto si trova la lavastoviglia e poi abbiamo il piano cottura in vetro ceramica e forno elettrico sottostante. Proseguiamo e abbiamo il salotto, il salotto ha una superficie di circa 20 metri quadri e invece la cucina, scusate ho dimenticato, ha una superficie invece di 10 metri quadri. Ok, proseguiamo e troviamo, prima di salire al piano superiore, la camera. La camera invece ha una superficie di 15 metri quadri, quindi risulta uno spazio comodo, generoso. Ci stanno per esempio comodini, oltre che indetto matrimoniale, e un grosso armadio. La camera ha anche un suo bagno privato, in questo caso è accessoriato di vasca, quindi lavabo con specchiera armadietto, e abbiamo il water e il bide. Andiamo ora al piano superiore, dove abbiamo un open space di poco superiore ai 20 metri quadri, con un suo piccolo balconcino, su uno sfogo, vista è molto gradevole, sul verde. Adottura si intravede un pochettino il bagno, magari dalla finestra del locale si vede senz'altro meglio. E quindi lo spazio open space, è appunto circa 20 metri quadri, poco superiore ai 20 metri quadri. E anche qua si trova il secondo bagno, in questo caso è completo di water con specchiera armadietto, scusate, lavabo con specchiera armadietto, quindi il water e adesso il box touch. Inoltre l'appartamento ha un locale adibito poi anche a un po' deposito, ma soprattutto la vanteria. L'appartamento è alimentato dal termopompa, andiamo alle serpentine a pavimento, si accettano animali, nello specifico gatti, e a disposizione dell'appartamento anche posteggi esterni non coperti. Ecco, magari da qua riusciamo a vedere uno scorcio del lago. Siamo a Comano, tre locali, duplex, molto carino. Questo è l'appartamento ideale per una piccola o giovane famiglia, oppure per un singolo o una coppia. Ed è tutto, allora io vi aspetto per mostrarvi personalmente questo carinissimo appartamento a Comano. Grazie a tutti, ti affitto!